Il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari è stato il più votato tra i sei membri eletti nei giorni scorsi all'interno della giunta esecutiva della CRUI, la conferenza dei rettori delle università italiane. Il professor Pettinari ha ottenuto 34 voti su 82 votanti, il maggior numero di preferenze tra quelle espresse ai sette candidati in lista. Sono molto orgoglioso di questo risultato, ha commentato il professor Pettinari, che mi consentirà di rappresentare all'interno della giunta CRUI le diverse anime degli Atenei italiani che compongono la conferenza. La situazione che stiamo vivendo, pur nella sua gravità, ha detto Pettinari, ci fornisce anche una grande occasione di cambiamento e di sviluppo. In questa fase occorre così mettere in campo una strategia di una diseguale pari opportunità per permettere a tutti gli Atenei di poter reagire secondo le proprie specificità e caratteristiche.